Eccomi qua direttamente dal magazzino, perché come al solito le cose importanti me le dimentico sotto, le altre invece sono già pronte direttamente al loro posto, però mancava questa scatoletta di legno versione gran riserva che vi tengo rigorosamente di schiena perché il tesoretto che contiene ve lo faccio vedere fra un po' là. Allora mettiamoci comodi perché finalmente riparliamo un pochino di Elrog. Prima notizia, stanno tornando le 300B, eravamo rimasti senza, eravamo rimasti a bocca asciutta per diversi mesi, le ultime credo di averle vendute a dicembre scorso, gennaio o qualcosa del genere, finalmente c'è stato un po' di spazietto nella produzione di Thomas Mayer anche per noi poverini. Per la prossima settimana direi che saranno pronte e disponibili delle R300B normali, per l'emo libdeno bisognerà probabilmente ordinarle, aspettare un po', ma saranno anche quelle finalmente reperibili. Non è una rivoluzione, ma quantomeno potremmo nuovamente dotare i nostri amati amplificatorini con la 300B di 300B come si deve. Ora c'è da fare un disclaimer, le 300B e le 300B molibdeno non saranno disponibili, diciamo così, per tutti, perché? Lo spiego nuovamente anche se ci ho già fatto diversi video, però evidentemente la cosa non è stata compresa fino in fondo. Le 300B Elrog hanno il filamento in tungsteno toriato, sono valvole elettricamente compatibili al 100% con una normale 300B utilizzata nei normali limiti di utilizzo di una 300B. Una grandissima maggioranza di amplificatori che usano le 300B fuori nel mondo o tirano per i capelli le specifiche di assorbimento o gestiscono male i filamenti. Fatto sta che un Elrog 300B o 300B molibdeno, o addirittura una TM300B, montata su questi amplificatori è fonte di disastri, nel senso che tende a danneggiarsi, a funzionare male, a rovinarsi anzitempo. Ecco, questa questione vorrei che fosse ben chiara. L'esperienza passata purtroppo ha fatto sì che si dovessero prendere delle decisioni drastiche. Quindi le 300B saranno disponibili solamente per i miei amplificatori oppure per quegli amplificatori che vengono da me certificati. Cosa vuol dire? Vuol dire che, so che la cosa sarà scomoda, sgradita, tutto quello che volete, però l'amplificatore viene in laboratorio, viene misurato, viene controllato ed eventualmente viene adattato per l'uso con le ER300B, ossia con valvole che abbiano il filamento in tungstenotoriato. Controllo della dissipazione della valvola, del punto di lavoro e dell'alimentazione dei filamenti, che è l'aspetto più bistrattato di tutti. Ho visto cose che voi umani, eccetera, eccetera. E non le ho viste sull'amplificatore cinese da 2.000 euro, 1.000 euro, 500 euro. Quelli non li ho neanche guardati, chi ci va a mettere delle Elrog, parliamoci chiaro. No, l'ho viste su amplificatori da decine di migliaia di euro. Non sto a dirvi quale sia il mio sgomento, però questo è. Per evitare che passi il messaggio che le Elrog sono inaffidabili, che le Elrog danno grane, cosa già successa in passato, io francamente ho preferito, di comune accordo con Thomas Mayer, di attuare questa politica, per cui io le Elrog 300B ve le do se posso testare ed eventualmente sistemare l'amplificatore, perché possa usare queste valvole senza che queste ne risentano. L'ho detto, l'ho stradetto, le valvole con filamenti in tolsenatoriato sono più delicate delle valvole normali, vanno trattate meglio, quindi facciamocene una ragione tutti quanti e prendiamo le cose come stanno. Purtroppo, ripeto, amplificatori che costano decine di migliaia di euro, hanno delle alimentazioni dei filamenti assolutamente improponibili, improbabili, hanno dei punti di lavoro che spesso sono fuori dai limiti di una buona 300B e il risultato è questo, prendiamo delle precauzioni. Tutto ok per quanto riguarda i miei amplificatori, tutto ok per quanto riguarda gli amplificatori che io ho già certificato per l'uso con le Elrog, per gli altri sono a disposizione. Se si reputa il procedimento troppo oneroso, troppo impegnativo, vabbè, mi spiace, non vi godrete le 300B e R con il loro filamenti in tolsenatoriato e non saprete che cosa vi perderete perché è veramente tanta roba. Non so ancora i prezzi precisi per il nuovo batch di valvole, è possibile che ci sia un piccolo aumento perché sono aumentati i costi della produzione, vedremo un attimino, comunque se non altro ci sono. Ecco non si tratterà di cose sconvolgenti, però almeno le valvole ce le abbiamo e so che alcuni di voi che si stanno guardando hanno già i miei amplificatori pronti per montare le Elrog e non hanno le valvole a mettere su e quindi insomma queste sono le buone notizie in arrivo. Ma adesso passiamo a un aspetto di Elrog che è sempre un po' bistrattato e lasciato da parte. Eh sì, questo è l'esposto ancora, non è ancora il loro momento. Invece è il momento di queste signore qua perché Elrog fa delle ottimissime raddrizzatrici, per la precisione le 274 e le 5U4G, raddrizzatrici di chiara fama, anche queste fatte con i metodi Elrog, cioè con il loro filamentino intustionatoriato e tutto quello che serve. Queste cosettine qua per alimentare un bel preamplificatore, un bel ampli raffinatino di quelli giusti, sono qualcosa di delizioso. Piccolo problema, attualmente queste valvole non sono in produzione perché la produzione delle 300B sta assorbendo praticamente tutta la capacità produttiva di Elrog. Ebbene, questo è evidentemente in giro per il mondo non devono essere tanto imbecili. La buona notizia è che ne ho ancora qualche pezzo a magazzino, quindi prima che vadano del tutto esaurite, perché me le stanno cominciando a chiedermele dall'estero, chiaramente non avendo più reperibilità, beh prima che vadano esaurite sappiate che ce ne sono ancora e ne vale la pena. Le ER5U4G e le 274B sono le versioni con base octal, quindi sono quelle più compatibili, se vogliamo dire così, con la maggior parte degli apparecchi. Tanta 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 roba, veramente un'aggiunta, se avete un amplificatore del livello adatto, un'aggiunta che tutto sommato vi consiglierei di fare, personalmente sperimentato e vanno in un altro modo rispetto alle raddrizzatrici, alle omonime standard. Facciamo un passettino alla mia sinistra e spostiamo ancora la cassettina a gran riserva, per ricordarvi le 845 e le 211. Di 845 e di 211 in giro ce ne sono un'enorme varietà. Se le volete comprare cinesi, Ling Lai, Shu Wang, Psvane, in mille salse a mille prezzi, arrivano tutte dalla stessa fabbrica e devo dire, se comprate le più economiche del lotto, tutto sommato il gioco ci sta, comprate una cinese al prezzo di una cinese. Se avete un amplificatore decente e non volete spendere i 5, 6, 7 mila euro la coppia che costano adesso queste valvole NOS, a parte la scarsità e la difficile reperibilità, io credo di potervi dire con tutto il cuore che queste sono in questo momento le uniche valvole che possono considerarsi realmente un sostituto per le 845 e le 211 NOS, perché sono le uniche di qualità a usare filamenti in tungsten otoriato e ripeto le uniche di qualità. Una nota giustamente va fatta per la serie della KR che sono ottime, non voglio assolutamente metterlo in dubbio e c'è più di un cliente che le apprezza, ma hanno il filamento a ossidi, non hanno il filamento in tungsten otoriato e questo comunque a livello filologico è una differenza. Poi può anche piacere, intendiamoci, ma comunque è una differenza. Così, giusto perché ne stiamo parlando, io direi di buttare un occhio a queste signore ed eccole qua. Questa è la versione, fra virgolette, fra molte virgolette standard della 845 Elrog. E qui a fianco ovviamente non può mancare la sorellona o sorellina o sorella e basta, eccola qui, la 211. Come sapete all'apparenza sono esattamente identiche perché la differenza sta nella spaziatura dei fili di griglia e nella distanza fra l'anodo e il catodo, cosa che ne cambia i parametri elettrici, il guadagno, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente la valvola è la stessa. Così è giusto per paragone, ma credo proprio di avere con me una 845 cinese di qualche anno fa, una Shuguang qualsiasi copia delle vecchie 845 americane. Mi permettete di mettervele vicine un momento e farvi dare così, di valutare la differenza anche visiva che c'è fra le due? Nuovamente siamo in presenza di una valvola che è in tutto e per tutto un 845, ma basta dargli un'occhiata per capire che è cresciuta. Con questo non voglio dire di fargli dissipare 150 watt, no, 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 sempre la 845. Queste valvole vanno usate perché durino una vita a 75 watt di dissipazione. Non facciamo porcate che poi anche loro con tutto che sono robuste patiscono. Questa placca io tutte le volte che la guardo, come dire, ho un tuffo al cuore. Ma io direi di mettere via queste cosucce per fare spazio all'ospite d'onore di oggi. Eh sì, perché oggi abbiamo un ospite d'onore. Aspettavo a farvela vedere un'occasione particolare. Il ritorno alle 300B, tutto sommato, è un'occasione sufficientemente particolare per farvi vedere anche questa specie di capolavoro termoionico che ha sfornato Thomas Mayer. Liberiamo il tavolo perché quelle che voglio farvi vedere oggi sono le ER284. Ui boh, 284, che valvole ma è questa? Per un strano cambiamento di nomenclatura, la ER284 non è altro che la versione con placca in molibdeno dell'845 Elrog. Dalla scatola direi che si capisce che siamo in presenza di qualcosa di un po' diverso dal solito. Non cominciate a frignare, a piangere per il costo, il prezzo e tutto il resto, che tanto su queste cose, lo sapete, non me ne frega niente. Come sono solito dire, non sono farmaci salvavita e come un'automobile fuori serie o un orologio di lusso non siete obbligati ad acquistarlo. Quindi la mia coscienza è assolutamente pulita. Cominciamo dal foglio di selezione, dove vediamo questi due esemplari che sono nella scatola, con il seriale consecutivo 1419-1420 e i dati di selezione, eccoli qua, perfettamente identici. Non sono due valvole selezionate, sono due valvole identiche con i seriali consecutivi, ok? Così, giusto per dirne una. Ma la cosa più bella è quella che c'è dentro. Eccole qua. Ecco, avrete già notato che il marchio sul vetro non è Elrog, ma è Thomas Meyer, che è il marchio che Thomas Meyer riserva alla sua produzione migliore. Quindi siamo davanti a oggetti che già al primo sguardo, si capisce, sono particolari. Ma la cosa realmente bella? Guardate questo anodo, guardate questa placca come è fatta. È una placca stampata in molibdeno, inchiodata, vedete, è rivettata, non è più imbullonata come quella delle 300 BMO, ma è rivettata, è costruita in quattro pezzi che vengono fissati all'armatura di sostegno e, spero che si veda bene, la superficie ha un particolare intaglio che è stato studiato apposta, è stato dimensionato apposta, per migliorare la dissipazione di calore, prevenire i problemi, prevenire almeno parzialmente, non si possono eliminare, ma attenuare i problemi che derivano dalla dilatazione termica della struttura stessa. Quindi una maggior costanza di prestazioni, una maggior durata, una maggior affidabilità. Questa è la ER284. Esiste chiaramente anche la versione in molibdeno della 211, perché, come vi dicevo, le differenze reali fra le due valvole sono interne, la struttura è esattamente, la struttura esterna, la struttura meccanica è esattamente la stessa. Per cui esiste anche la versione opera d'arte della 211. Nel frattempo lasciate che vi raccomandi questo capolavoro di valvola se avete degli amplificatori e delle orecchie che reputate se la meritino. Io ho già avuto modo di provarle e di darle ai clienti che hanno i miei amplificatori con l'845 e a quanto pare ne sono rimasti piuttosto entusiasti. Non posso che confermare assolutamente il parere. Già l'845 normale con placca in grafite rispetto a un 845 commerciale è un altro volare. Questa versione con la placca in molibdeno veramente è in grado di tirare fuori delle cose che manco si sospettava ci fossero. È di una pienezza, di una completezza, di una grazia assolutamente fuori dal comune. Chiaramente si tratta di un oggetto per pochi che andrà montato su amplificatori ma necessariamente di un certo livello però ecco se ce l'avete è il momento di farci un pensierino perché si tratta di un dispositivo di livello veramente superiore molto molto superiore alla media. Che dire, forse non ha la magia delle migliori nos ammesso che troviate ancora delle nos selezionate e in condizioni perfette, ok? Ecco, forse non ha quella magia ma ha una precisione, ha una ricchezza che forse sono persino superiori a quelle delle nos americane d'epoca. Quindi, boh, fatevi voi due conti. Non stiamo chiaramente facendo il paragone fra questa valvola e valvole che costano la metà, un terzo, un quinto. Non stiamo facendo il paragone fra questa e la produzione cinese fra questa e una produzione corrente. Stiamo facendo il paragone fra queste valvole e valvole che se vi va bene le pagate 6-7 mila euro la coppia ammesso di trovarle e ammesso che siano in qualche modo accoppiate men lasciamo perdere selezionate. A quel punto per una coppia nuova nos effettivamente ha selezionata molto simile una decina di migliaia di euro che le possono chiedere con tutta tranquillità o cifre di quel tipo. Ecco, stiamo facendo il paragone con oggetti di quel genere. Oggetti da pazzo collezionista? Boh, signori, un appassionato di vini sarà disposto a spendere cifre adeguate per un ottimo vino se se le può permettere e se intende farlo. Un appassionato di auto sarà disposto a spendere determinate cifre per una determinata auto. Se ritiene giusto farlo, ecco, qui siamo in quel campo. Il prezzo di questi tubi non deve più costituire un problema. C'è poco da fare. Non è più una questione di rapporti prezzo-qualità, di contenuti, eccetera. Si tratta essenzialmente della cosa migliore che c'è sul mercato in questo momento. Se la volete e se riuscite ad averla, perché anche qui la produzione non è esattamente abbondante, questa è la valvola da avere. Ecco, benissimo, se avete resistito allo shock di un intero video dedicato a oggetti costosissimi ed esclusivi che fanno urlare al massacro e che eccetera, 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 mi raccomando condividete il video, mettete un like e parlatene con gli amici. Iscrivetevi a questo accidenti di canale che siamo a 9.400 e rotti, vorrei vedere arrivare a 10.000. Dai, insomma, mettiamola così. Vi faccio i saluti abbracciando le mie due piccole, perché sì, questa coppia qui è mia, me la sono presa pur moi, per il mio futuro amplificatore con l'845 fatto come dico io, e che quindi deve avere anche le valvole che dico io dentro per andare come dico io. Naturalmente per voi ce ne sono altre coppie, non è che siano finite qua, però ecco, queste qui sono le mie due piccole e me le tengo io. Le riporrò in cantina tranquille al calduccio che si conservino il meglio possibile. E quindi se anche voi vi portate a dormire le vostre valvole preferite sul comodino, fateci un pensiero e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie